Ben ritrovati gentili amici a questo nostro spazio dedicato al Lodigiano, in particolare alla Diocesi di Lodi e partiamo proponendovi un servizio nel quale viene illustrato il dettaglio del cammino diocesano della pastorale giovanile proiettato verso Cracovia, la giornata montiale della gioventù che si celebrerà il prossimo anno. La sera del 4 di novembre infatti si svolgerà la seconda tappa con l'iniziativa lungo le nostre strade con la processione dei giovani che accompagneranno una copia della croce di San Damiano e la statua della Madonna di Loreto fino in cattedrale. In questi giorni intanto è stato anche presentato il dettaglio su quelle che saranno le possibilità di soggiorno per i giovani a Cracovia in vista della GMG del prossimo luglio. Mercoledì 4 novembre, seconda tappa nel cammino di avvicinamento alla giornata mondiale della gioventù di Cracovia per i giovani della Diocesi di Lodi. Con l'iniziativa lungo le strade saranno proposti momenti di preghiera in due diverse chiese della città di Lodi e quindi un momento comunitario in cattedrale. Avremo il secondo appuntamento del nostro crocevia in preparazione alla giornata mondiale della gioventù a Cracovia con i giovani e partiremo le 20 e 30 da due luoghi. Uno è la chiesa di San Francesco in Lodi dove il giorno precedente arriverà la croce di San Damiano e l'altro sempre le 20 e 30 dalle figlie dell'oratorio dove sarà presente la Madonna di Loreto. Coppie queste che arrivano dalle diverse diocesi italiane stanno infatti facendo il giro da mesi e la chiesa di Vigevano consegnerà a noi in questi giorni e noi passeremo alla diocesi di Crema. Dopodiché si confluirà verso la cattedrale. Sì, il ritrovo è diviso nel senso che nella chiesa di San Francesco andranno tutti i ragazzi giovani mentre le ragazze e le giovani andranno dalle figlie dell'oratorio. Vivranno un momento riflessivo e poi con i segni arriveranno dal vescovo in cattedrale. In cattedrale cosa accadrà? Cattedrale abbiamo un momento più spirituale, un momento più di preghiera dove rifletteremo ancora su questi segni della chiesa italiana e lì i ragazzi vivranno proprio un raccoglimento e l'ascolto delle parole del vescovo. In questi giorni intanto l'ufficio pastorale giovanile della diocesi di Lodi ha reso noto le proposte di viaggio e soggiorno per i giovani che intendono partecipare alla GMG di Cracovia. Sono due le proposte che la nostra diocesi insieme alla diocesi di Como, Vigevano e Pavia propongono, il cosiddetto gruppo A da Ticino. La prima proposta che comprende anche il gemellaggio con una diocesi vicina a Cracovia sarà appunto la prima formula la proposta A, mentre la proposta B è la settimana cosiddetta secca dal 19 luglio al primo agosto è la proposta A, quella col gemellaggio, mentre dal 24 di luglio fino al primo di agosto sarà la proposta B. Abbiamo cercato anche di andare incontro un po' alle esigenze dei giovani abbattendo un po' i costi, la proposta più lunga sarà di 550 euro, mentre 430 la proposta B. Domenica primo di novembre il Vescovo di Lodi presiderà la Santa Messa per tutti i defunti nella cappella del cimitero maggiore di Lodi, dove da lunedì ripresa la celebrazione della messa feriale. A questo proposito abbiamo incontrato il nuovo cappellano, Don Mario Capello, a cui abbiamo chiesto anche un commento sulle nuove indicazioni che riguardano i funerali nella nostra città. Quali celebrazioni sono previste per la commemorazione dei defunti? Ecco, quello che è in questi giorni una preparazione come novena, ecco, però normalmente la celebrazione della Eucaristia. E domenica con la venuta del Vescovo per la celebrazione a Solenne per tutti i defunti del cimitero che sono qui ed i sacerdoti in modo particolare. Poi ci sono gli eventuali possibili interventi delle diverse parrocchie che di domenica in domenica o anche durante la settimana se lo ritengono opportuno di venire per la celebrazione con le loro parrocchie, a suffragio dei morti delle loro parrocchie. Ricordiamo in occasione della commemorazione dei difunti come ricevere l'indulgenza? Beh, l'indulgenza è in questo periodo uno dei motivi per i quali aiutare i nostri cari, i fedeli delle nostre parrocchie, in condizione di aiutarli per avere motivo di aiuto nella purificazione presso il Signore, vivendo un momento di attesa nel purgatorio. E a partire dal primo novembre entreranno in vigore delle nuove linee di comportamento concordate dei sacerdoti di Lodi sui funerali in città. Regole che prevedono, per quanto riguarda il trasferimento della salma al cimitero maggiore, che il sacerdote dopo la celebrazione possa non accompagnare il feretro, avvisando il cappellano del cimitero che riceverà la salma per l'ultima benedizione. Abbiamo veramente bisogno di organizzare meglio un po' il fatto dell'assistenza ai defunti e anche della preparazione al momento della morte. È un momento solenne questo, non è un momento secondario. Quindi le norme che sono state messe in atto sono valide anche per armonizzare un po' il servizio dei pochi sacerdoti a servizio di molti fedeli che purtroppo hanno il motivo di decedere, insomma, di morire. Oltre a questo il fatto di avere il momento importante di accompagnare i propri fedeli che muoiono nella condizione di porli nell'attesa insieme a tutti noi dell'incontro con il Signore. Perché qui non c'è nessun morto, qui sono tutti in attesa, stanno ancora camminando. Non abbiamo motivo di dire che sono arrivati, nemmeno noi quindi siamo arrivati. Camminiamo con loro. Non è un luogo estraneo. Questa è una delle pagine sulle quali insistere. Secondo una prassi consolidata, l'Ufficio Missionario Diocesano propone anche per quest'anno, in vista del periodo di avvento, un sussidio da destinare alle parrocchie e ai fedeli. Ne abbiamo parlato con il direttore, Don Luca Maesano. In vista dell'avvento di quest'anno, l'Ufficio Missionario Diocesano, come accade ogni anno, lancia una proposta indirizzata ai sacerdoti della nostra diocese, non solo. Quale? è il libretto di avvento, il libretto giornaliero, in cui sulla falsariga della lezione divina si può leggere, meditare la parola di Dio. Come sarà strutturato? Quest'anno il grande tema è dalla parte dei poveri e sviscerato dal Papa con la proposta della misericordia. Quindi il tema sarà questo. Ascolteremo, leggeremo la parola di Dio del giorno. Poi avremo modo di riflettere, di meditare su una testimonianza di missionari o di scrittori o di gente che ha vissuto dalla parte dei poveri. Poi verrà lanciata la proposta di una parola, di una frase che richiama il Vangelo e che quindi può essere ricordata, ripetuta anche durante la giornata. E poi è una parola del Papa. Tempi per poter richiedere questo sussidio? Sì, siamo già agli ultimi giorni, è stato diramato tutte le parrocchie. L'invito a prenotare questi libretti perché sono quasi in stampa e quindi dobbiamo poi limitarci a coloro che l'hanno prenotata. Però per le parrocchie che l'hanno prenotata ovviamente ci sarà la possibilità per tutti di prenderlo e di utilizzarlo. Questa edizione del Notiziario si conclude qui. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è a domani.